Prova qui nel ruolo di trequartista, a trovare lo spazio, carica il destro! L'esterno della rete, al soltimo con il destro, ballone allontanato da Pompà, poi mischia, e il palo, Castillo, si salva la Juve, a coppo sicuro, poi il numero 7 Prana, reclama lo calcio di rigore quello del Frosinone, qui Barzani è la casa, il braccio sinistro. Pireia, cerca lo spazio, trova la mille cross, colpa di testa e traversa di Pompà, l'occasione per la Juve, tu sarai andato in cielo a trovare quel pallone, Pompà. Buono tutto, pallone largo per Alexandro, ha servito da Pompà, eccolo il cross, per Zazza, che va di testa, ancora traversa! Pompà, la sua apertura, cercare quadrato, molto precisa, l'accancio del colombiano, è uno dentro l'uomo, quadrato, attenzione, molto fuori per di Pompà, lascia Zazza! Con deviazione, Simone Zazza, porta in battaggia la Juve, alla quinto della ripresa! Primo gol, in maglia bianco-nera, per Simone Zazza! Quadrato fuori per Alcucci, ecco lo suo cross, colpa di testa di Chiellini! Dall'altra parte ha cercato il palo più lontano! Pireia, grande giocata, va con destro! Avrebbe ridato il coda per questa giocata, Pireia! Quadrato fuori per il controllo di Hernandez, ha vinto anche la sua, sinistro! Leani, di nuovo Juve, Pireia! Padrone che termina l'arco! Padrone che termina l'arco! Padrone che termina l'arco! Padrone che termina l'arco! Mi so, di nuovo il campo di testa! Appareggiato il Frosinone! Appareggiato il Frosinone allo Juventus Stadium! Blanchard! Un gol storico! Al quarantasettesimo! Leonardo Blanchard! E arriva adesso il triplice fischio di Cervellera, l'impresa del Frosinone che trova il suo primo punto nella storia in Serie A a Torino allo Juventus!